Ci sono anche le marche nella lista delle regioni in attesa di conoscere le decisioni in arrivo dal Ministero della Salute riguardanti le nuove assegnazioni della fascia di rischio settimanale. La comunicazione arriverà nella giornata di venerdì, quando dalla cabina di regia nazionale saranno diffuse le scelte prese in base all'andamento dell'indice di contagio sul territorio regionale. Incerta quindi la posizione delle marche, che oscilla tra la conferma della zona gialla e il passaggio in arancione. Dubbi che fanno i conti con la recente ordinanza firmata dal governatore Francesco Acquaroli per limitare fino alla serata di sabato gli spostamenti in entrata e in uscita dalla provincia anconetana, nella quale negli ultimi giorni è stato riscontrato il numero maggiore di nuovi contagi. In attesa di conoscere la decisione riservata per le marche c'è anche lo stesso Acquaroli, il quale ha parlato di numeri che non segnerebbero il passaggio in arancione, sottolineando però che la decisione finale spetterà in ogni caso alla cabina di regia nazionale. Noi con i nostri uffici abbiamo fatto le solite proiezioni e i numeri non sono così da condannarci, però detto questo poi c'è una cabina di regia, c'è un'elaborazione che viene fatta da Roma e non dagli uffici regionali, quindi potersi esprimere in questo senso non è facile assolutamente. Io dico che aspettiamo anche con apprensione la comunicazione dell'RT parziale e da quell'RT già potremo avere qualche informazione in più. Il tendenziale dovrebbe restare un tendenziale buono per la nostra regione, però un conto è che a dirlo siamo noi, un conto è che a dirlo sia direttamente chi poi fa il giudizio definitivo. C'è il punto minimo, il punto massimo e il tendenziale. Noi riusciamo a calcolare il tendenziale, il tendenziale sarebbe un tendenziale buono, però non sappiamo se questo viene confermato anche dai calcoli fatti per capirci dalla cabina di regia e dalla ministra della salute. Sa che voglio dire a volte le formule possono portare a risultati differenti, quindi non posso esprimermi con certezza rispetto a qualcosa che non è stabilito da noi.